Musica Benvenuti al TG10, l'apertura oggi del telegiornale la dedichiamo alla vicenda Eni. Abbiamo raccolto la testimonianza dell'imprenditore gelese Rosario Amaru, presidente di Confindustria Centro Sicilia. Il protocollo d'intesa firmato il 6 novembre del 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico ha detto Amaru, non è una scatola vuota, bisogna lavorare in sinergia per uscire definitivamente dalla crisi. Rosario Amaru, numerosi incontri, tavoli, scioperi, incontri al MIS in merito alla riconversione della raffineria di Gela in Green Refinery, però al momento attuale non accade nulla e giustamente ancora una volta i lavoratori dell'indotto protestano. Qual è la posizione di Confindustria? Come sta seguendo questa vicenda? Confindustria ha una posizione chiaramente pro territorio perché in realtà quello che sta succedendo è un totale cambiamento e in ogni cambiamento che avviene in un territorio è chiaro che c'è una sorta di resistenza. In questo cambiamento tutti dobbiamo iniziare a ragionare in maniera diversa, il mercato è cambiato, il mercato non è più locale ma è globale, dobbiamo iniziare a vedere altri mercati, a esplorare altri mercati, così come molte aziende dell'indotto hanno già fatto, altre sono indietro. Stiamo cercando di creare un consorzio tra imprese per aggredire mercati nazionali e internazionali. Ecco, Confindustria si muove più che altro a cercare opportunità altrove e supportare questo territorio per quello che ci sarà con la Green Refinery. Però se lei dice che bisogna lavorare per il territorio, dunque pro territorio, lei chiedo per quale motivo le imprese vanno via? Quali sono le imprese che vanno via? Alcune sono andate via da Gela, non trovando commesse di lavoro. Ma che le imprese vadano via fa parte della natura delle imprese, le imprese vanno via perché cercano altri mercati e quindi la possibilità che l'impresa vada via sta nella natura delle imprese. Ma secondo lei il protocollo firmato il 6 novembre del 2014, come dice qualcuno, è una scatola vuota? No, il protocollo firmato è uno strumento attraverso il quale noi dobbiamo affrontare questo momento di grande crisi. E i cantieri a Gela quando partono? I cantieri dobbiamo chiederle ad Eni, non so io adesso quando dobbiamo partire, ci sono delle autorizzazioni che attendiamo, all'arrivo di queste autorizzazioni io ho certezza per quello che sono state comunicate da Eni, che Eni è pronta per poter procedere appena arrivano le autorizzazioni. Più ottimista che realista? Io sono sempre ottimista, noi abbiamo questa caratteristica di essere estremamente ottimisti, ma l'ottimismo serve a superare gli ostacoli che la vita ci presenta e questo di Gela è un ostacolo molto importante, se facciamo sistema tutti insieme io sono sicuro di poterlo superare. E i lavoratori che protestano che diciamo? I lavori che protestano noi siamo accanto a loro perché se noi stiamo cercando altri mercati anche come imprese perché vogliamo portare i lavoratori a lavorare chiaramente in altri siti. Abbandoniamo il concetto di lavorare a Gela, andare a pranzo a casa, questo è un fatto che era legato alla raffineria, era un fatto estremamente positivo, dobbiamo anche dire che il mercato ormai è cambiato, noi personalmente abbiamo diversi cantieri fuori, il nostro personale lo abbiamo mandato in trasferta anche all'estero, quindi noi abbiamo questa opportunità e che le altre imprese colgono queste opportunità dell'estero e cercare dell'estero fuori comunque dal comprensorio Gielese e trovare appunto nuove opportunità per l'impresa e per i lavoratori. Cambiamo argomento, blizza dalla Polizia Municipale contro l'ambulandato abusivo ieri mattina a Gela. Gli agenti coordinati dal comandante Giuseppe Montana hanno effettuato numerosi controlli a commercianti di ortofrutta in varie zone della città, ad un esercente di via Butera, risultato privo di ogni genere di autorizzazione, sono stati sequestrati due quintali di prodotti orticoli, in via Niscemi ed in via Venezia invece sono stati multati due commercianti che non erano in regola con le discipline in materia di occupazione del suolo pubblico, ai due sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 309 euro. Cambiamo argomento e parliamo dell'iniziativa in ricordo dei fratelli Emanuela e Nunzio Bonura scomparsi 41 anni addietro a seguito di un incidente stradale mentre stavano recandosi a scuola. 1 marzo 1975, 1 marzo 2016, sono passati 41 anni, Emanuela Bonura ed il fratellino Nunzio stavano recandosi a scuola, un autotreno rischiò di investire il piccolo Nunzio e la sorella intervenne per proteggerlo, gesto che non li strappò al tragico destino che li portò via ancora giovanissimi. Ad Emanuela e Annunzio è stata dedicata alla giornata di oggi con una cerimonia organizzata nell'auditorium Virgilio Argento della scuola Paolo Emiliani Giudici. Erano presenti i familiari dei due bambini, gli ex compagni e docenti della loro prima C, rappresentanti istituzionali e delle forze dell'ordine. Oggi tornano a vivere, sono qui con noi, sia Emanuela che il piccolo fratellino Nuccio e la scuola su sollecitazione della Procura della Repubblica, dei Carabinieri ha voluto organizzare oggi, nel 41esimo anniversario della scomparsa, una festa. Oggi qui non si piangerà, qui oggi si gioirà per questi due bambini. Durante l'iniziativa di oggi è stata ricollocata nella cappella della scuola una targa in ricordo dei due fratelli, il procuratore capo Lucia Lotti. Tutto quello che porta ai bambini, ai problemi, alle storie, ai ricordi del passato è comunque un qualcosa di straordinariamente vitale. Questo è lo spirito con cui questa iniziativa è stata organizzata e mi fa piacere partecipare perché appunto è una scuola, è una scuola, è il futuro, anche se ricordiamo un evento triste. Alla cerimonia è intervenuto anche Salvatore Parlagreco, ex docente. Qui c'è stato il miracolo, tutti i compagni di scuola di questa bambina sono qui presenti e questa è Gela, Gela di cui parliamo tante volte per molteplici motivi, non sempre positivi, Gela è anche questo. Il sindaco di Gela, Domenico Messinese. E' una giornata di un evento tragico ma che nel contempo l'amore fra bambini che si è palesato fino all'estremo sacrificio, è giusto poterlo ricordare. E sentiamo adesso il ricordo della sorella di Emanuela Enunzio, Geltrude Bonura. E' ancora un sentimento vivo, una ferita difficile da rimarginare. E' sicuramente un sentimento vivo. Forse ha cambiato colore, però è chiaramente un sentimento ancora vivo. Ma cosa ricorda lei di quel giorno? Io di quel giorno non ho mai voluto ricordare nulla perché è stato un dolore così grande, così profondo, che forse abbiamo anche protetto dalla curiosità della gente, da quello che poteva sminuirlo. Quindi è qualcosa che abbiamo sempre tenuto dentro e questo rimane ancora oggi. E' stato un dolore nostro. Adesso posso solo dire che forse ha cambiato colore, forse si è un po' sbiadito, come si sbiadiscono le cose con il tempo che passa. Ma sicuramente è comunque un'emozione, è comunque un sentimento molto forte che continua a rimanere nostro. E averli ricordati oggi, che significato ha? Che valenza ha? E' una cosa che ci è piovuta sulla testa, è una cosa che non avremmo mai pensato, che non avremmo mai cercato, sempre per quel principio che ho sostenuto prima. Però io sono fatalista, probabilmente è successo perché doveva accadere. Forse è successo perché mia sorella, probabilmente, dopo 41 anni, voleva che parlassimo ancora di lei, voleva che ricordassimo questo gesto che sicuramente è stato un gesto di grande amore, che è giusto ricordare. Ancora Rubinetti a secco e a gela. L'erogazione idrica è stata interrotta nelle zone di Spina Santa, Caposoprano e Montelungo per consentire a Caltacqua di effettuare degli interventi di riparazione lungo la condotta. Disaggia anche nei comuni di Mitrofi, di Niscemi, Butera e Mazzarino. In una nota, Caltacqua comunica che l'interruzione è avvenuta ieri, a partire dalle 8 del mattino, per consentire l'esecuzione di due interventi di riparazione sull'adduttore principale nel territorio di Pietra Persia. A causa dell'incuria dei proprietari detentori dei cani, il solo pubblico viene continuamente insudiciato dagli escrementi degli animali provocando un notevolissimo disagio e rischio all'intera cittadinanza in particolar modo a bambini, anziani e diversamente abili oltre a provocare un degrado del territorio gelese. Per questi motivi chiediamo al Sindaco di emettere o fare rispettare qualora ci fosse una ordinanza in modo da sanzionare coloro che non sono provvisti del kit per la raccolta degli escrementi e coloro che non provvedono immediatamente all'asportazione delle deiezioni alla pulizia del suolo. E quanto si legge in una interrogazione presentata dai consiglieri comunali San Mito, Di Dio, Caruso e Cascino. Nella richiesta i quattro consiglieri precisano che ogni proprietario di cane o chiunque ne abbia anche solo temporaneamente la custodia o la conduzione deve avere sempre con sé quando si trova in aree pubbliche assieme al cane ed essere quindi in grado di esibire a richiesta degli organi di vigilanza il kit per la pulizia. Siamo convinti, concludono i consiglieri, che solo in questa maniera si possa garantire la salute degli animali e del nostro territorio. Al via la terza edizione del lagone del congiuntivo il bando della gara biennale ideata e promossa dal quarto circolo didattico Luigi Capuana di Gela è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa. Ad illustrare i dettagli dell'avviso di partecipazione il comitato promotore della manifestazione composto dal dirigente scolastico Concetta Maria Mongelli, dal giornalista Franco Infurna, presidente della commissione dall'insegnante Rosalba Occhipenti, dal presidente del circolo d'Istituto Maurizio Matraxia e dal giornalista Andrea Cassisi. Abbiamo avuto degli effetti positivi, specie nei bambini, nell'eccellenza. Questo è un potenziamento di eccellenza. Desideriamo potenziare la conoscenza della lingua italiana perché noi la consideriamo importantissima come lingua nazionale perché qualsiasi cosa domani questi ragazzi faranno nella vita che siano ingegneri, che siano degli scienziati proprio dal punto di vista scientifico è importantissimo che sappiano parlare la lingua non solo in maniera corretta, è ovvio ma anche in maniera elegante. Tutti ne parlano e forse questo era uno degli obiettivi dell'iniziativa di questa scuola coinvolgere quante più persone e poi, come diceva bene la preside è davvero una questione di eleganza, lo diceva anche il professore Sgroi nella precedente manifestazione, diceva una cosa simpaticissima Il congiuntivo è come un bell'abito, un bel vestito non lo mettiamo tutti i giorni, lo mettiamo in certe occasioni e siccome la lingua italiana è molto bella e elegante allora il vestito lo potrebbe usare quanto più spesso possibile Abbiamo stabilito in sintonia con la dirigente di andare ad estrapolare dal concorso i ragazzi del quarto circolo in modo tale che così si creano due gradatori e non ci possa essere un principio, una situazione di privilegio nei confronti degli altri ragazzi che partecipano Alla gara possono partecipare tutti gli alunni delle classi quinte e delle scuole primarie di tutte le province siciliane che abbiano conseguito una valutazione in italiano non inferiore a otto decimi Per gli alunni che frequentano il quarto circolo sarà stilata una gradatoria esterna al concorso Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14 di sabato 19 marzo prossimo presso la segreteria del circolo didattico di Via Palazzi o tramite mail all'indirizzo terzo agone congiuntivo chioccialagmail.com L'agone si svolgerà venerdì 29 aprile I partecipanti avranno a disposizione 90 minuti per svolgere gli esercizi contenuti nella prova legati esclusivamente all'uso del modo verbale e congiuntivo In palio complessivamente 450 euro che verranno distribuiti ai primi tre classificati La partecipazione, lo ricordiamo, è gratuita Tutti i dettagli possono essere acquisiti nell'avviso di partecipazione pubblicato sul sito capuanagela.gov.it Giovani cattolici in piazza per una nuova tappa di evangelizzazione di strada che raggiungerà proprio i luoghi della Movida Gelese teatro troppo spesso di scontri violenti che coinvolgono ragazzi di ogni età L'iniziativa promossa dal Movimento Giovanile San Francesco preseduto da Concetta Lacedra in occasione della manifestazione mondiale 24 ore per il Signore promossa in città dalla Piccola Casa della Misericordia e dai padri agostiniani ha l'obiettivo di portare il messaggio evangelico proprio nei luoghi frequentati dai ragazzi in programma una due giorni che prevede oltre agli appuntamenti di adorazione e alle confessioni nella chiesa di Sant'Agostino una via crucis nella stessa piazza e la notte di luce e di riconciliazione adorazione eucaristica con possibilità di confessioni attraverso canti, coreografie, riflessioni e testimonianze dirette sarà possibile meditare sul mistero della croce e su varie tematiche sociali quali la famiglia, la criminalità, la pedofilia, l'aborto la dipendenza da droga e alcol la violenza sulle donne, l'omicidio e la povertà l'appuntamento è per venerdì 4 e sabato 5 marzo alle 22.30 in piazza Sant'Agostino sabato 5 e domenica 6 marzo prossimi si trarrà in tutta Italia la quindicesima giornata nazionale Unitalsi il segno della giornata di cui anche quest'anno è testimoni alla Fabrizio Frizzi sarà una piantina d'ulivo che verrà proposta come impegno per la pace e la fratellanza in oltre 3.000 piazze italiane il ricavato delle offerte sarà utilizzato dall'Unitalsi per sostenere i numerosi progetti di solidarietà in cui la situazione è impegnata quotidianamente sull'intero territorio nazionale alla servizio delle fasce più disagiate della popolazione grazie al costante e generoso impegno dei propri soci a Gela l'iniziativa si trarrà in piazza San Giacomo piazza Umberto I e via Palazzi Angolo via Albania una colomba per la vita con la dolcezza si ottiene tutto anche una nuova vita con questo messaggio sabato 5 e domenica 6 marzo torna anche a Gela ai muretti di Macchitella l'iniziativa promossa dall'associazione italiana Midollo Osseo preseduta da Giacomo Giurato l'obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani soprattutto a diventare donatori di Midollo Osseo nel gazebo e nel desk ADMO allestiti per l'occasione dove spiccano le colombe per la vita racchiuse in eleganti confezioni è possibile chiarire dubbi e ricevere tutte quelle informazioni necessarie per diventare donatori di Midollo Osseo ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità rieccoci seconda parte del telegiornale la confezercenti dell'area sud della provincia di Caltanissetta diretta da Roccopardo informa agli utenti che il termine di pagamento per il rinnovo degli abbonamenti siae sarà prorogato al 18 marzo prossimo inoltre per tutti coloro che fossero interessati ad usufruire dello sconto per il rinnovo dell'abbonamento possono rivolgersi presso l'ufficio di Corso Vittorio Emanuele al civico 45 ex provincia di Caltanissetta allo sbando dopo le dimissioni del commisterio dell'Ende Alessandra Di Di Berto nominata dal governo Crocetta dopo la nascita dei liberi consorsi dei comuni ad abbandonare la nave anche il commissario dell'ex provincia di Agrigento Marcello Maisano una decisione motivata dalla crisi economica degli enti è presa a seguito dello stanziamento di 230 milioni di euro approvate in finanziaria somme non sufficienti per i bilanci delle nuove province a rischio c'è il possibile licenziamento dei precari e la mobilità del personale di ruolo intanto prosegue la battaglia dei sindacalisti e dei dipendenti che chiedono certezze sul futuro lavorativo e la garanzia dei servizi erogati dall'ente che in questi mesi sono stati ridimensionati a causa dei tagli ai fondi con ripercussioni ad esempio sull'assistenza scolastica e la manutenzione stradale questa è una morte quasi annunziata questa dell'ex provincia di Caltanissetta noi da tempo già alla fine del periodo estivo come sindacati a livello anche unitario abbiamo insistito e chiesto al governo certezze abbiamo chiesto una definizione della riforma regionale e un intervento per quanto riguarda il livello occupazionale adesso la bomba è scoppiata già dalla scorsa settimana il documento esitato dai commissari straordinari aveva preannunciato il disastro che si è verificato con le dimissioni del commissario dell'ex provincia di Caltanissetta e a seguire quello di Agrigetto e chissà di quanti altri noi abbiamo già allertato e siamo già disposti a fare una mobilitazione generale che possa intervenire a garantire non solo i livelli occupazionali ma anche i molti servizi erogati dalla provincia quali la manutenzione delle strade quella delle scuole l'assistenza ai disabili quindi è un'importante sezione del servizio pubblico che va salvaguardato a tutti i costi per giovedì pomeriggio è già previsto una riunione del coordinamento provinciale dell'ex provincia e lì faremo il punto della situazione e metteremo in atto tutte le misure necessarie e opportune per riuscire a a dare un esito positivo a questa situazione a questa emergenza che già da tempo assilla tutte le ex province della regione siciliana per gli ultra 65 anni ed i portatori di handicap gravi che hanno fatto richiesta di assistenza domiciliare è stato prorogato al prossimo 3 marzo il termine per presentare all'ufficio del protocollo generale del comune di Gela l'attestazione in corso di validità dell'ISEE l'indicatore della situazione economica equivalente in un primo momento le scadenze erano state fissate allo scorso 12 febbraio la mancata integrazione della documentazione ha spiegato l'assessore ai servizi sociali del comune l'Ice a Bela invaliderà l'istanza inoltrata per fruire del servizio di assistenza domiciliare mediante voucher sociale e adesso la nostra rubrica quotidiana in breve Fino al 17 marzo prossimo si svolge a Gela presso i locali della Chiesetta San Biagio e presso la Pinacoteca Palazzo di Città il terzo corso di formazione del progetto Life più Leopoldi dal titolo La sostenibilità nel paesaggio agricolo del Golfo di Gela il corso di 50 ore ha un approccio multidisciplinare e pratico affrontando temi concreti per la gestione progettazione e conduzione degli impianti serricoli e la promozione di un'agricoltura sostenibile interverranno docenti dell'Università degli Studi di Catania e esperti del settore La Fidapa International di Gela promuove il progetto internazionale Dai luce alla pace a cura della past presidente Angela Incardona il progetto viene portato avanti a livello internazionale nei 98 paesi dei 5 continenti dove la Fidapa è presente il progetto si propone di educare le nuove generazioni alla pace alla comunicazione al dialogo interculturale il progetto è rivolto ai ragazzi della terza media e vede coinvolti i docenti di lettere ed educazione artistica dovranno essere prodotti un disegno che può essere individuale o collettivo con tecniche diverse tra cui carboncino pennarello matita in basso un pensiero di pace ispirato dal disegno i disegni migliori 6 per ogni scuola dovranno pervenire entro il 20 aprile prossimo e verranno valutati da una commissione competente i tre disegni ritenuti più significativi verranno premiati nella giornata conclusiva che si terrà nell'ultima decade di maggio prossimo sono previsti premi in denaro è stato prorogato al 15 aprile prossimo al fine di poter usufruire della fioritura primaverile della flora dunale il termine di consegna dei lavori relativi al concorso fotografico le dune gelesi promosso dalla Soroptimist di Gela è rivolta agli alunni delle scuole superiori con l'intento di valorizzare le bellezze e le peculiarità del paesaggio gelese attraverso le immagini le foto inedite devono essere stampate in formato 18x24 e salvate su supporto cd in formato jpeg con dimensioni minime di 3 megabyte e massime di 10 megabyte la pagina dello sport calcio è Antonello Capodicasa il nuovo allenatore dell'Atletico Gela prende il posto dell'esonerato Peppe Misiti l'ex tecnico della primavera del Palermo ha avuto trascorsi con la Nissa l'Akragas e con l'Alcamo già in passato aveva accostato il suo nome all'Atletico Gela quando fu chiamato a sedere sulla panchina della squadra gelorossa che lasciò però dopo appena tre giorni dalla sua presentazione in conferenza stampa Capodicasa dovrebbe raggiungere la squadra domani per dirigere la sua prima seduta di allenamenti in vista del match esterno che vedrà l'Atletico Gela opposto al Comiso sarà illustrato sabato 5 marzo alle 18 il programma degli eventi del 2016 promossi dall'associazione sportiva dilettantistica Velo Club Gela preseduta da Antonio Esposito l'appuntamento è previsto nei locali della Chiesetta San Biagio la pagina dello spettacolo sono due film in programmazione al cine teatro antitodo di Macchidella a Gela alle 17.30 a Gioi e alle 19.30 e 21.30 il labirinto del silenzio con la pagina dedicata al cinema noi chiudiamo l'appuntamento di oggi con l'informazione grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito